E' solo degli insulsi ipocriti, maledetti siete, live e corrotti, ipocriti che non siete altro. Della pace! Beccati questa! Per la pace? Se sei lì in pace, va coi fiori, va coi cioccolatini, anche senza niente, alza le mani, pace, 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 vogliamo parlare, se ho qua per la... No! No! Tirano le pietre, fanno scoppiare le bombe e carte e si mascherano pure per non farsi riconoscere, rari incoglioniti! A chi prendi per il culo tu? Dai! Prendi i vigili a me, ci sono le immagini! Guarda che c'è attaccata la polizia! Repressione! Non è vero, è una goccia tua, ti devono mandare in manicomio! Ti devono mandare in galera e basta! Poi voglio vedere, se non cambi idea dopo, che te vai da sotto le nocce e te metti così! Voglio vedere dopo quando vai a raccogliere la saponetta, dai! Le cose succederanno davvero, mica solo nei film! Hai capito? Hai capito, ipocrita! A Roma, corteo pro-Palestina, per carità, eh, per carità, va bene lì! Ma potesse pure pro-Israele, pro-Libano, però basta, va in pace! Invece no! E invece prima tirano le bombe e carta, poi tirano delle pietre, poi tirano altri petardi! Sono intervenuti in sommossa questi qua! Sono intervenuti in sommossa, sti! Pro-Palestina, per la pace! Teste di carità! E invece sono intervenuti in sommossa, anzi, i calabba, lì, la polizia, con i manganelli, eccetera! Ma venitemi a dire che è colpa della polizia! Ci sono le immagini! Ci sono le immagini! Non deviate la realtà delle cose! Teste di rapa! Capito oppure no? Chiaro, la mia idea è che la Presidente condanna fermamente, dite tanto per la pace e per la pace, ha detto, e invece andate lì per fare casino, fatemi capire che pace è la vostra! E ha presi pure per il culo, e ha fatto bene! E potrebbe essere pure la Schreiner, può essere la Meloni! Ma ovviamente, io guarda, non capisco proprio! Ma che cosa vi dice la testa? Scusatemi, scusate! Ma cosa vi dice la testa a voi? Ma veramente voi fate parte di questo gruppo di peraccottari che non sono altro, di pecoroni? Ma la polizia si è attaccato! Noi siamo qui per la pace! Siamo qui per la pace! Ma se sei venuto con la bomba carta, questa è la pace a casa tua! Ma che pace! Teste di...